Scacco ai clan, nuovo blitz antimafia a Reggio Calabria, nella rete della DDA esponenti di spicco e gregari dell'endrine Serraino e Libri, estorsioni e danneggiamenti per riconquistare il controllo del territorio. Lo scippo interrotte le attività del laboratorio ematologico di eccellenza di Cosenza, la scelta adottata dall'azienda ospedaliera per razionalizzare le risorse ha innescato le reazioni degli operatori e dell'associazione italiana contro le leucemie. Si torna in aula, approda in consiglio regionale il caso Callipo, l'assemblea di Palazzo Campanella deve decidere se respingere o meno le dimissioni protocollate nelle scorse settimane dal re del Tonno. Guerra della statua, a Riace scoppia la polemica, il sindaco dal Via Libera, un progetto antirazzista ma puntualizza, spetta a noi decidere dove posizionare l'opera in bronzo. Le bellezze del Pollino, i viaggiatori di Tourist for Future arrivano a Civita, il loro lungo cammino da Palermo a Bergamo fa tappa in una tra le località più belle e suggestive del paese.